sembrava sembrava troppo bello per essere vero di potersi veramente finalmente riconcentrare definitivamente sul calcio giocato finalmente tornare a parlare della palla che corre che scorre su un campo di calcio come abbiamo fatto ieri in una post partita abbastanza discutibile nel senso che la partita è stata un test e nulla più poche emozioni tanta corsa un po di noia non posso fare altro che dirlo perché ragazzi che assistito a quelle due ore sicuramente non si è divertito già pensare al fatto che torniamo effettivamente a giocare seriamente il 4 gennaio con la cremonese quindi passiamo in tranquillità questi ultimi giorni prima di natale prima di santo stefano prima di capodanno prima del primo dell'anno prima e ce no e ce no perché perché ieri sera juventus tramite una nota ufficiale che voglio anche comunque mostrarvi comunica di aver ricevuto insieme ad altre otto società di calcio italiane che sono sandoria genua empoli parma e tante altre erano 11 mi pare le società di calcio coinvolte nell'inchiesta che ad aprile 22 ha visto la juventus prosciolta insieme a tutte le altre società di queste non sono più presenti napoli e chievo ora vedremo se il discorso si allargerà oppure no e quindi juventus e altre otto società di calcio dalla procura federale hanno ricevuto questa volontà di riaprire appunto il caso che era già stato decretato e infatti juventus e gli altri soggetti erano stati prosciolti per insussistenza di qualsiasi illecito disciplinare questo ovviamente era un procedimento un processo sportivo già completato aprile 2022 juventus dice ancora una volta non vede nuovi elementi quindi c'è l'assenza di elementi nuovi rilevanti per il giudizio rispetto alla decisione della corte federale di appello allora cerchiamo di fare un passo indietro cerchiamo di buttarla giù terra terra cosa era accaduto tramite l'inchiesta prisma c'era stato una sorta di terremoto legato al calcio italiano perché perché ci si era resi conto che tante squadre in serie a e non solo in serie a tramite le plus valenza andavano a gonfiare dei valori di bilancio buongiorno fiorellini buongiorno a tutti perché qui non si sta negando che juventus abbia fatto plus valenza e quello è sotto gli occhi di tutti e alla luce del sole il punto ovviamente è dimostrare che juventus tramite questa cosa abbia creato un illecito e qualcuno qua potrebbe venirmi a dire ma juventus è quotata in borsa d'accordo juventus è quotata in borsa le altre no non mi pare che sampdoria genua empoli parma e tutte le altre si hanno quotata in borsa eppure sono comunque coinvolte quindi quello non è il punto focale della questione e anche se fosse quello c'è sempre una giudizia ordinaria è una giudizia sportiva dato che juventus è quotata in borsa non ci sono dei riscontri dal punto di vista sportivo ci saranno dei riscontri dal punto di vista appunto della giustizia ordinaria eventualmente quella penale potrebbero essere applicate pene penali in caso in cui ci siano stati diversi illeciti ma dal punto di vista sportivo che tu sia quotato in borsa tu non sia quotato in borsa è la stessa identica cosa perché perché sbuffo perché mi arrabbio perché poi ci sono dei giornali che fanno queste prime pagine fanno queste prime pagine juve ecco le prove bam così ecco le prove adesso dove andate ci sono le prove nuovo processo a gennaio rischio retrocessione ovviamente che facciamo non ce lo buttiamo un rischio retrocessione per la juve abbiamo già detto fino allo sfinimento diciamolo l'ennesima volta la morale è sempre quella non è fai merenda con girella ma è che la retrocessione dal punto di vista del regolamento sportivo perché di questo stiamo parlando si applica soltanto nel caso in cui la squadra la società non sia in grado di iscriversi al campionato e quindi tramite dei bilanci gonfiati ma non gonfiati nel senso che quindi facciamo lo scambio mettiamo il valore no proprio denaro contante moneta sonante nelle casse riusciamo effettivamente appunto a iscriverci al campionato e senza queste operazioni non saremmo stati in grado di farlo non è il caso del chievo che tra l'altro qui non è presente che all'epoca aveva fatto delle vere proprie operazioni finte delle vere proprie fatture finte in cui giocatori effettivamente non facevano quel percorso questo era il caso del chievo non è il caso di eventus quindi con il rischio retrocessione con una volta non è informazione è soltanto un sbattere in prima pagina un qualcosa per attirare la gente per far parlare e se proprio vogliamo dato che comunque il gioco delle parti o questo io ci sto va bene rispondo presente anche se vogliamo per alimentare un certo tipo di voglia di andare in quella direzione lì contro la juventus questa è una cosa che mi sento di dover dire perché ecco le prove boh quali sono boh il rischio retrocessione perché che regolamento sportivo parla chiaro e va in una direzione diversa rispetto a quella che stiamo prendendo perché c'è qui c'è una richiesta di riapertura di un caso per il quale eventus era stata assolta questo è accaduto ieri mi ha letto dal comunicato ufficiale juventus ha ricevuto questa sera insieme ad altre otto società la volontà da parte della procura federale di riaprire questa sentenza e per juventus non ci sono fatti nuovi e dato che non ci sono fatti nuovi con i fatti precedenti eravamo risultati innocenti perché ancora una volta non c'è un modo non c'è un modo mi dispiace mi dispiace sbuffare mi dispiace sbuffare ma questa cosa l'abbia ripetuto mille volte le ripetiamo mille una non c'è un modo oggettivo di dare una valutazione del valore di un calciatore non c'è un modo oggettivo per me vale 10 per te vale 15 trattiamo veniamoci incontro magari ci facciamo sconto magari ci facciamo un favore non te li voglio dare tutto cash teniamo a parte cash ti aggiungo un giocatore sono queste le prove sono queste le prove dai documenti dell'inchiesta prisma la figici cita l'esempio dello scambio juve sioni in cui sono in cui giovani cotter e anderson va aggiunto un mister x da 2 milioni per raggiungere la cifra già concordata e poi c'è la tabellina con il valore di di mercato dei giocatori e c'è il mister x che deve essere con un valore da quanto capisco di 4 milioni per cercare di far quadrare il tutto questa è una prova cioè la cosa capiamo da questa tabella che la juventus quindi mi state dicendo che la juventus in questo momento o comunque ultimamente stava addirittura scambiando dei giocatori con altri club e a questi giocatori stava attribuendo dei valori di mercato e per far quadrare quei valori di mercato al massimo aggiungeva altri calciatori oh ma questo è molto queste sono effettivamente le prove con cui la juve rischia la retrocessione ora perdonatemi perdonatemi dopo quasi otto minuti di video torno a dire perché penso che sia sempre giusto sottolinearlo io non sono qui a dirvi che la juventus è innocente non sono qui a dirvi che la juventus è innocente non è questa la volontà non è questo il punto se la juventus risulterà colpevole allora pagherà perfetto benissimo la giustizia farà il suo corso ed è giusto che sia così però lato plus valenze non c'è un criterio oggettivo per stabilire una valutazione quella è una prova quello è un documento all'interno dell'inchiesta quello un documento all'interno dell'inchiesta quella tabellina lì è una prova juventus ha creato un illecito tramite quella roba lì e se sì in che modo e cos'è cambiato rispetto a tutte le altre società di calcio che fanno le stesse manovre perché ne ha fatte di più juventus c'è una regola che dice che se ne possano fare tot e superato quel tot allora no no allora viene il retrocesso allora ok andiamo in serie b se c'è una regola che dice questo allora andiamo in serie b perché io lo torno a dire lato plus valenze se si andrà a riaprire un processo legato alle plus valenze sarà una pagliacciata ragazzi sarà una pagliacciata e pretendo esigo in quel caso che venga allargata tutta la serie a perché io me ne ricordo tante di operazioni di mercato in serie a da parte di tutti i club in cui ci sono delle valutazioni che dici ma che cos'è ma è ovvio che lo sai sono cose che succedono all'interno di questo mondo le hanno sempre fatte le stanno continuando a fare le fanno tutti e non puntiamo il dito chi se ne frega è una roba che fanno tutti c'è una regola che lo impedisce no è allora che lo facciano se non c'è una regola che lo impedisce che lo facciano che cosa me ne frega a me a me importa che poi ci sia il prodotto calcio perché probabilmente senza queste cose qui le società morirebbero perché adesso noi ci stanno preoccupando di juventus ma genua parma sampdoria empoli ma questa invece pro vercelli queste qui non le ammazziamo ora juventus c'ha il suo pool di avvocati c'ha il suo pool di difensori abbastanza anche facile per loro immaginiamoci ste società che devono fare un altro processo dopo che avevano vinto il processo per dimostrare ancora una volta che sono innocenti di fronte delle accuse che non esistono che non ci stanno che non ci sono che non ci possono essere perché nel mondo del calcio queste cose le abbiamo sempre viste continueremo sempre a vederle perché non c'è una regola non c'è un modo non c'è una possibilità quindi lato plus valenza mi dispiace mi dispiace poi se salterà fuori qualcosa in più se juventus avrà mosso dei calciatori per finta allora quello è un altro discorso se avrà fatto delle plus valenze finte quindi delle fatturazioni finte senza effettivamente fare operazioni quello è un altro discorso se tutto si basa sul discorso del eh ma quello lì l'hai valutato troppo eh ma quello lì l'hai valutato poco eh ma quello lì l'hai scambiato eh ma questo qui non l'hai scambiato no eh e pretendo poi allora esigo che tutto il calcio in italia sprofondi nella fossa tutto il calcio in italia perché se queste sono le volontà di rapire un procedimento se queste sono le accuse allora stiamo parlando di una barzelletta lato stipendi la situazione è molto più delicata invece e lì sono effettivamente preoccupato e lì sono lì con il nodo in gola per capire cosa accadrà perché io eh con le informazioni che vengono fuori sugli stipendi e il calciatore ha detto questo poi quell'altro ha detto quell'altro poi questo non si sa questo non si è capito se davvero ronaldi mancano dei soldi e lì riescono i punti di penalizzazione diventa concreto eh quello sì dobbiamo aspettare dobbiamo capire dobbiamo vedere se effettivamente è dimostrabile che è accaduto e se effettivamente l'hanno fatto se hanno pagato effettivamente il nero dei calciatori se non hanno dichiarato per pagare in altri modi è quello grave quello grave non dal punto di vista sportivo perché non è grave dal punto di vista sportivo però ovviamente è grave dal punto di vista della borsa della finanza e sul regolamento sportivo un regolamento un cavillo un articolo che va a prendere questa cosa qui c'è anche se c'è sempre quello spiraglio secondo la quale si parla delle normative vigenti in quel momento la serie a aveva cambiato le regole tramite una nota dicendo che le società potevano accordarsi però ovviamente puoi pagare il nero se se effettivamente juventus ha pagato il nero e verrà dimostrato che ha pagato il nero è dice il rischio dice il rischio ma io ritrovarmi no cioè ve la voglio far rivedere ve la voglio far rivedere perché io non credo che sia logico è possibile che il 23 dicembre 2022 una testata giornalistica importante come corriere dello sport possa mettere clamoroso il procuratore federale riapre l'inchiesta plus valenze che c'è una richiesta di riapertura juve ecco le prove virgolettato di chi virgolettato perché di chi chi ha detto questa cosa e il rischio retrocessione buttato lì a caso secondo che cosa secondo quale regolamento che cos'è cambiato da ieri se non il fatto che è stata fatta una richiesta di riapertura dell'indagine la riaprono bene ci sono elementi nuovi si andiamo a processo no processo c'è già stato c'è già stato anche un esito e se si va a processo si può ancora risultare innocenti perché ribadisco non c'è un regolamento che va a tutelare questa cosa da fastidio che le squadre facciano questa cosa bene si faccia un regolamento che non può essere retrattivo che da questo momento in poi si seguirà quel regolamento lì non so io sono un pochino spiazzato sono un pochino spiazzato perché davvero mi sembra di vivere in un mondo in cui vengono viene riaperto un procedimento che vedeva coinvolte 11 squadre adesso vede coinvolte 9 squadre e vedremo se non ci saranno altre squadre che prima addirittura non erano coinvolte che potranno essere coinvolte in un secondo momento titoloni nei giornali juventus ecco le prove il rischio retrocessione non so magari sono strano io magari tutto questo è normale tutto questo è logico fatemi sapere grazie a tutti